La tregua concessa dalla neve ha permesso ai comuni di tirare il fiato e ripristinare le normali condizioni di vivibilità urbana e fare un rapido bilancio dei danni subiti dal territorio. Tutto questo prima del colpo di coda che secondo le previsioni dovrebbe far sentire i suoi effetti, specie per le marche meridionali già dalla serata di stasera e per tutte le giornate di domani e dopodomani. Niente riposo dunque per la macchina provinciale che dal 31 gennaio scorso sta affrontando l'emergenza a neve, oltre a togliere il più possibile la neve dalle strade di maggior traffico e spandere il salgemma per limitare la formazione di ghiaccio, le pale meccaniche e le turbine della provincia hanno infatti allontanato i cumuli di neve dai bordi delle strade allo scopo di rendere il più largo possibile lo spazio delle carreggiate utile alla circolazione stradale. Intanto alla richiesta di Antonio Pettinari inoltrata al presidente Gian Mario Spacca di proclamare lo stato di emergenza per tutta la provincia si sono unite in queste ultime 48 ore le istanze dei sindaci di Cingoli, uno dei territori più colpiti dal maltempo e San Severino che hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. A macerata il sindaco Romano Carancini, in sinergia con i primi cittadini di altri capoluoghi della regione e di alcuni centri della provincia, tra cui proprio San Severino, Tolentino, Recanati Cingoli e San Ginesio, ha emesso una nuova ordinanza che dispone per domani, venerdì 10 febbraio e sabato 11, la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. A partire dalle 20 di questa sera poi le squadre di operai e mezzi del Comune saranno impegnate nella rimozione della neve partendo da Piazza della Libertà per proseguire in corso della Repubblica via Gramsci, Piazza Oberdan, via 20 Settembre, via Domenico Ricci, Piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, Corso Matteotti e via Tommaso Lauri. Dalle ore 18 scatterà quindi il divieto di sosta in tutte le vie interessate dall'operazione straordinaria, da segnalare tra le misure speciali adottate dalle amministrazioni locali quella del Comune di San Severino Marche che ha arruolato anche i lavoratori cassi integrati settembre d'anni della Merloni e della Comal Serramenti per far fronte all'emergenza neve recependo proprio un atto della Regione Marche.